E prima di passare agli auguri di Buon Natale da parte di questi meravigliosi angeli vicino a me e da Angeli Rocchi, il locale, parliamo sia del format e basta, ecco, parliamo del format e poi gli auguri di Buon Anno e di Buon Natale. Allora, quel format è aperitivo nel pallone, giusto? Ecco, adesso si sta svolgendo ad Angeli Rocchi, vuoi dire qualche altra cosa? Sì, allora, ovviamente l'idea è quella di non fermarci a Roma ma farlo diventare un evento nazionale quindi già ci hanno fatto proposte a Milano, a Napoli, a Firenze, ovviamente stiamo valutando e appunto spostarci e diventare appunto, siamo già una testata nazionale quindi perché l'evento che è figlio della testata, esatto, non farlo diventare nazionale, quindi tutto qui. Quindi Buon Natale, ecco, cominciamo da Giorgia Viero. Feliz Navità, Feliz Navità e che tenga un agno 2015 esplendido. Mi hai ricordato anche Papa Francesco, non so perché. Adesso hai capito perché ci siamo innamorati. L'Argentina proprio domina tutto spiano anche. Allora, poi Erika, vuoi dirlo in tedesco, in cinese? Assolutamente, in italianissimo. Buon Natale, buon Natale a tutti che sia un Natale soprattutto fatto appunto dei nostri valori. Quindi ridete in famiglia, siate comunque molto uniti perché la famiglia è veramente il valore più importante. Quindi siete fortunati ad averle, approfittate tutti i momenti che avete per stare vicino ai vostri cari. Soprattutto a Natale. Io auguro a tutti un bellissimo Natale, però soprattutto un 2015 folle. Dobbiamo essere affamati e folli come diceva Steve Jobs. Bravissima, stay angry, stay foolish, questo mi sembra importante. E Erika, è Baggio che dice, abbiamo visto la tua foto su Facebook, gli ha fatto gli auguri di ha telefonato. Io vado nel pallone, quando si nomina Baggio io non capisco più niente. Infatti esatto, mi hanno pubblicato quella bellissima intervista su Passione del Calcio. Ci saranno novità anche su quello, vi faremo sapere. Seguiteci, 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 seguiteci. Anche a livello editoriale stiamo per fare un grande salto di qualità, quindi occhio anche al dominio di Gol di Tacco. Da gennaio? Da gennaio magari ci potreste vedere anche in televisione. Buon Natale a tutti. Grazie mille. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale.